Calcio Napoli 24 Salve mister, eccomi Mi chiedevo se a qualificazione raggiunta il Napoli ci sarà la possibilità di vedere dei ragazzi della primavera esordire in Serie A Se sì, quali? Io ripeto, sono restito a parlare di questo però anche perché prima otteniamo le cose se avete visto l'anno in cui siamo arrivati in Champions con una giornata d'anticipo qui con l'Inter fece giocare Maiello a Torino con la Juventus e si fece molto bene questo l'avete visto anche a volte nelle partite in cui siamo 3-0 ho fatto esordire dei ragazzi 2-0 per noi a 5 minuti alla fine, 10 minuti proprio per forgiarli lo stesso Insigne l'anno della Champions arriviamo in Champions quando vincevamo 2-0 a Livorno gli feci fare 5 minuti e lo feci esordire a me piace farle proprio per farli crescere per farli maturare per dargli entusiasmo, per dargli convinzione ai ragazzi però ripeto, prima otteniamo le cose e poi ragioniamo di tutte le altre penso Grazie.